Tanti auguri a me Tanti auguri a me Devi continuare ancora per molto? Sì Ok, finisci, finisci Tanti auguri a Fede e Niki Tanti auguri a te Sì ragazzi, è il mio compleanno Sono felicissimo perché sono sempre felice quando è il mio compleanno Quindi grazie per la canzone, mi è piaciuta molto Prego, sono felice che si è piaciuta Mi sono spaccato due corde della gola Però è stata molto bella Vedo che è una bellissima sciarpa Chi gliel'ha regalata? Tu! Esatto ragazzi, uno dei regali che mi ha fatto Steph è la sciarpa del griffondoro Penso che si veda anche il logo della casata Sono felicissima Poi vi farò vedere ovviamente tutte le altre cose Che ho ricevuto su Instagram Perché non sono ancora tutti arrivati i miei regali E penso che una parte dei miei regali arriverà pure tipo a dicembre Ritardissimo Non è colpa mia Speriamo arrivi prima Non è colpa mia Gli ha ordinati in ritardo Gli ha ordinati in ritardo E un'altra cosa molto importante Ok, dimmi Oggi sceglierò il gioco che andremo a fare Esattamente l'ho scelto io come video speciale Mettiamolo così Per il mio compleanno e sono sicura che piacerà a tutti voi Sì, ma stiamo esagerando qua Un po' troppe cose ci sono Bisogna festeggiare per bene Bisogna festeggiare per bene Aspetta 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 Oh mia mia che bello No Che bello Wow, guarda E ragazzi come va? Io sono Feriniki E io sono Steph E che si giochiamo a Planet Coaster Ebbene sì Il gioco è proprio Planet Coaster È uscito ieri Io lo aspettavo davvero da tantissimi mesi E non vedo l'ora di iniziare a giocare Perché da quello che abbiamo iniziato a vedere È davvero fantastico Vi ricordate di In Park Tycoon 2 su Roblox? Ecco, questa è la versione migliore Grafica migliore Più cose da costruire Cose davvero incredibili Sembra una figata pacesca? Potrebbe anche essere una nuova serie del canale Quindi vediamo un pochettino dai likes Dalle views e da tutto come va Questo episodio speciale per il compleanno di Feriniki Dopodiché decideremo se continuare a farci dei video Perché secondo noi il gioco potrebbe meritare La cosa prima di tutto che c'è da dire È che qua abbiamo tre cose diverse Il che secondo me è già una cosa fantastica Abbiamo la carriera Dove dovremo semplicemente fare degli obiettivi Che ci vengono imposti Sandbox che sarebbe creare il nostro parco da zero E fare esattamente tutto quello che vogliamo Come Team Park Esatto E invece le challenge dovrebbero essere Delle situazioni davvero difficili Dove dovremmo riuscire a risolvere delle cose Che ci vengono chieste Ok E con dei budget limitati Dei soldi limitati Un sacco di cose limitate Quindi delle sfide fighissime Ed ecco qua il primo livello Che dovremmo andare a completare Scommetto che sarei felicissimo vero? Sembra Senza neanche farlo apposta Tutto il primo scenario Dei primi livelli della carriera È tutto a tema pirata Cioè io non ho parole La fortuna che hai avuto incredibile Sì ma ascolta Guardiamo Quando ti fanno Una grafica del genere Con le navi così Guarda i pirati che sparano È meraviglioso per tutti Secondo me Anche a chi non fa impazzire In questa ambientazione È davvero bello Questo è il nostro primo livello Ci danno delle cose già fatte E noi dovremmo semplicemente Migliorare secondo le cose Che ci chiede Ad esempio Se vedete lì a sinistra Abbiamo easy Medium e hard Su easy dobbiamo attrarre 800 persone Nel nostro parco E costruire 800 visitatori 800 visitatori E costruire una seconda giostra Per fare il medium Quindi a seconda stellina 900 e 4 giostre E infine per l'hard Quindi il più difficile Dovremmo attirare 1100 visitatori E guadagnare Credo 15.000 dollari E siamo a 5.700 Ok ok Quindi è molto carino Dobbiamo mettere mano A questa meraviglia Io non la vorrei No io lo vorrei lasciare così Parco fatto e finito E basta E rimanere a guardare I clienti che si divertono Guardate Guardate Ma la scimbietta C'è la cosa più bella Che abbiamo mai visto E' vero Non l'ho divertuta No iniziamo Iniziamo a costruire La prima giostra Dai Iniziamo a entrare Nel vivo Di questo livello Allora Secondo me Posizioniamola qua Perché guardate Qua abbiamo un bello spazio Libero Sembra fatta apposta Per noi Qui possiamo selezionare Le giostre Ed ecco qua Quali ci sta proponendo Per iniziare Quindi Quale ti ispira Iniziamo con la tua scelta Dai Ho scelto Quale? Ho scelto La giostra Questa? E' una delle mie preferite Perché non faccio niente Che se montagne rosse Faccio solo te giostre Cavallini L'adoro Quindi anche se Temo pirata Oh non mi interessa Ok Temo per te Dovrebbe essere Temo per me Invece Va bene Va bene Dove la posiziono? Che dici? Perché bisogna fare Secondo me così Per lasciare un po' di spazio D'entrambi i lati Dopodichè Come su Team Park Tycoon Dobbiamo mettere L'entrata E l'uscita Giustamente Quindi io ti direi Che l'entrata La mettiamo Tipo qua Che si unisce Al percorso Giustamente Esatto Facciamo proprio dritto Per dritto Mentre l'uscita La possiamo piazzare Un po' a lato Per fare l'uscitina Capito che va Un po' così Sì sono d'accordo Dopodichè Dobbiamo fare Il path No vabbè Bellissimo Come Team Park Uguale Esatto Guarda E dopodichè L'uscita Guarda ti posso fare Anche le forme Un po' stravaganti Bello No ma qui ci divertiamo Un sacco a costruire Ci divertiamo davvero Un sacco Guarda a sinistra Seconda giostra Viene considerata fatta Adesso dovremmo Poterla finalmente Aprire Dovremmo avere Giustamente Da qualche parte Mi aiuti Mi aiuti Open Ok guarda L'hai visto? Sì Fanno il fumo No vabbè Fa proprio Con tutti i coriandoli È aperta Venite Su clienti C'è l'inaugurazione È la giostra di Ferenichi Su 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 La chiamiamo la giostra di Ferenichi Aspetta La giostra di Ferenichi La giostra di E L'ho scritto malissimo Ferenichi Grazie Che bello Mi dedichi anche a una giostra È fantastico Oggi è un giorno perfetto per me Sei troppo felice Esattamente Allora Tra quanto parte Perché qua vogliamo vedere Proprio subito la partenza Sono troppo curioso Eccola che parte Sì Sì Vabbè Questo è molto lento Ovviamente Dovremmo avere anche il modo di vedere Dall'inquadratura Aspetta Ok Guarda E come stessi facendo la giostra pure io Ma è bellissimo Ci possiamo anche guardare intorno Salve signorina Ciao Ci sta divertendo Oh ciao Facciamo su Che bello E giù Su E giù E poi dovremmo avere anche queste inquadrature Invece per vederli un po' dall'altro Per vedere tutto Per vedere tutto Quindi noi eravamo questa persona qua E cioè È fantastico Secondo me Io non ho parole Lavorare Hanno fatto un gioco davvero fantastico È bellissimo Bellissimo Allora Noi non siamo Qua nel parco giochi Per divertirci insieme ai clienti Noi dobbiamo gestire questo parco giochi Quindi ci dobbiamo impegnare Come puoi vedere I visitatori stanno aumentando Perché questa nuova giostra è bellissima E tutti la vogliono provare Però dobbiamo continuare a costruire Quindi direi di fare la seconda giostra Sì Perché tanto dobbiamo arrivare a quattro per il medium Dopodiché magari vediamo qualche bar Qualche cosettina in quel senso lì E vediamo un po' che altro possiamo fare C'è un problema C'è un problema Nelle notifiche del nostro Perché noi sappiamo tutto quello che sta succedendo nel parco Dato che lo dirigiamo Ci stanno avvertendo che molti visitatori in questo momento sono assetati Quindi hanno molta sette Uh ok Tra i due credo che questo abbia più senso Ma è enorme O è diventato giorno È enorme però Certo Però lì è perfetto Vero? È bellissimo lì Guardate Guardate qua Cosmic co-milkshake Che buono Mi sta facendo finire voglia di un milkshake Sono buonissimi Guardali guardali Vanno a bere Comunque Guarda la fine E su E te l'ho detto che avevano sette Ma molti Posso farti vedere al volo una cosa che adesso non andremo a costruire Che cos'è? Che cos'è? La bocca di un clown Ed è un negozio Poi tipo mettiamo una ancora qui Capisci? No non c'entra nulla Non ti piace Io devi mettere delle piantine carine Guarda gli hamburger per te li hai visti Oh mio dio Dove? Cioè puoi costruire un hamburger No Posso farlo? Sì Posso mettere un hamburger No no è fantastico Dobbiamo provarlo Però aspetta Mettiamolo nella zona dove si mangia Dai È giusto Facciamo le cose in modo sensato Comunque tanto Questo non è il nostro parco È semplicemente un livello Quindi non ce ne frega troppo Allora Facciamo che lo mettiamo qui Sì Assolutamente Proprio vicino a dove si mangia Poi dobbiamo mettere ovviamente il formaggio Dopodiché Tutte le varie verdure Tutte le cosettine E poi si chiude No vabbè Vabbè Io lo vorrei in casa Qui dietro Questa cosa è bellissima Cioè è davvero bellissima Adoro questo gioco Sai che è gigantesca Appunto Oh mamma mia È davvero grande Ma proprio molto Così? Sì davvero bellissima Voglio vedere lì come fanno le tazzine Sa molto di Alice nel Paese delle Meraviglie È vero Quindi io lo adoro E ovviamente almeno le giostre Devi farmi scegliere a me giustamente Allora Allora Facciamo l'entrata qua Sì Che poi L'uscita secondo me da qua Anche secondo me Vabbè benissimo Proprio per tenere lì No facciamo un po' così Un po' meno Ci sto Va bene va bene Poi facciamo il path Che potrebbe andare un pochettino storto Guarda se ti piace una roba del genere Sì è carina Per fare un po' gli stravaganti E infine ci serve Qua dobbiamo mettere un attimino questo E facciamo l'uscita Che secondo me può andare semplicemente una piccola curvetta Ok Open Andate tutti nella seconda giostra di Ferinichi Forza ragazzi Non la chiamo seconda giostra di Ferinichi Fai tutto con lo stesso colore per ora Capito Mi stai chiedendo molto Tipo con questo Anche quello è molto bellino Ok Quello è molto molto bellino Guarda Guarda come è più carina adesso Guarda Sì e allora ti cambio anche questo Certo certo Sì 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 Voglio capire un po' cosa tutto si può cambiare Cosa tutto possiamo Questo è bellino però mi piace No quello è bellino Vabbè Sinceramente questo è promosso Oh salve Oh salve Sei molto felice lei Sì Bella Guarda il bambino La giostra che io ho fatto nella realtà Quindi sto scegliendo tutte le poche giostre che io ho fatto Anche io che se l'ho fatta Gira 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 L'ape maia Quella è vola È vola lo so Però non sapevo cosa cantare Ho presso lo sport Ho presso il tuo Il tuo cercare di essere simpatica Io sono simpatica Metti anche un po' l'altra camera Ok Questa Sì sì Voglio vedere tutto come si muove Guarda come si divertono È davvero davvero carino Bello 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 Ci sono un sacco di visitatori Che stanno avendo problemi con i loro bisogni Per il bagno E il pipì Ci siamo dimenticati Scusa gli abbiamo messo tutti i posti dove bere il milkshake Che succede? Questo qua è un bagno Come un bagno? Sì è un bagno Poi abbiamo questo come bagno Cioè Che tepico Ma questo Come casa invece è un bagno No è molto da principessa Molto da castello E poi ti farei notare che c'è anche questo Questo da pirata Questo è perfetto No ma guarda quello da pirata ti prego Cioè Vabbè No Vabbè ma io qua non c'entra lei Facciamo che nella zona tema pirata Mettiamo quello da pirata Ma guarda che E questo è da pirata Vedi che c'è scritto E l'altro che cos'è? Questo dice Shaq Che credo secondo me da pescatore Aspetta 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 Oh mia mia Che bello No Che bello Guarda No io questa roba non la farei mai Guardiamola anche così Guarda come Allora si divertono però eh Bellissimo No questo è meraviglioso Sembra come se volassero Perché roteano Si muovono a sinistra e a destra Si è fatto proprio come se volassero Bellissimo Bellissimo Epico Epico Questa forse è la più bella Che abbiamo fatto oggi Sì Davvero bella Davvero bella Il gioco ci ha avvisato che i nostri visitatori stavano diventando un po' tristi Ma guardate che cosa possiamo mettere noi No no guardate c'è Guardate qua Come in tutti i porco giochi che ci sono le persone vestite ovviamente a tema Mettiamo a felicità Yeee Ce l'abbiamo fatta e dicevo che si fanno le foto con i clienti Che si fanno No bellissimo è bellissimo E abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi Abbiamo completato i livelli Fantastico Esattamente Guardate dall'alto cosa tutto abbiamo fatto Questi sono i bagni Alla fine abbiamo scoperto che c'è l'entrata anche da dietro E tipo un'altra cosa epica Giusto Prima di finire questo primo video di questo gioco Tipo c'è dello sporco Oh no non va bene Mettiamo lo spazzino E prende e pulisce tutto E beh giustamente giustamente c'è di tutto C'è di tutto E ovviamente c'è lui E non lo dobbiamo fare noi come su Team Park Esatto Quindi è perfetto Assumere una persona più adatta Adesso capita che uno sta male e vomita Chiami lui e ci pensa subito Pulisce subito Così Bravissima Non dà farsi dei clienti E guarda qua è diventato tutto perfettamente pulito È davvero bellissimo questo gioco Speriamo davvero che vi sia piaciuto Nel caso lasciateci tanti likes Così sapremo se continuare a farci dei video Noi davvero vorremmo farci una serie Perché è perfetto Cioè non mi aspettavo un gioco davvero fatto così tanto bene In tutti i dettagli Mi ha stupito Ed è davvero bellissimo E non so che altro dire È fantastico Sono sicurissima che piacere anche a tutti voi È davvero bellissimo Ho fatto un'ottima scelta Sono molto contento Sei stata bravissima Grazie Bene che si riesce a discrivervi Se ci sono i miei like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao e alla prossima Ciao 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 Ciao